Il titolo potrebbe essere Che Sofferenza? No, il titolo non è Che Sofferenza, non è il titolo, è Che Sofferenza proprio. Abbiamo sofferto troppo contro una squadra che ha giocato molto bene, ha fatto i complimenti a Totò qui alla fine, perché già nelle due partite che abbiamo giocato durante il campionato ci hanno fatto soffrire e oggi hanno fatto una grande partita. Quindi complimenti a loro e noi ci dobbiamo dare una svegliata perché obiettivamente giochiamo sempre troppo con la palla e senza palla facciamo poco, quindi Luciano dovrà lavorare, adesso ci sono partite ravvicinate, speriamo di recuperare tutti al meglio e sicuramente ci sono le squadre quelle più forti che giocano un po' come noi, con la palla al piede, mentre queste squadre più piccole che devono fare di necessità virtù hanno qualcosa in più sotto l'aspetto dell'agonismo. Ha detto una frase importante, ci dobbiamo dare una svegliata, riporto il suo virgolettato. Secondo lei perché, Presidente, questa squadra è scesa in campo con questo atteggiamento che sembrava soft? Perché la Carrarese correva di più e meglio del Pescara? Secondo me non è che correva di più, siamo noi che probabilmente corriamo male, perché non è che noi non corriamo, secondo me dobbiamo cercare di, a me lo sapete, adesso c'è Luciano, prima c'era un altro allenatore, a me questo tic e tac mi fa impazzire, il calcio purtroppo io la vedo in maniera diversa, però queste sono le caratteristiche dei giocatori, quindi cerchiamo di andare avanti. Ha pensato per un attimo di essere fuori il primo turno? No, onestamente no, no perché sapevo di avere dei giocatori che in qualsiasi momento potevano fare gol, però devo dire che la Carrarese ci ha messo in difficoltà. Che cosa ha fatto Ferrari perché ha lavorato un po' a parte, però non si è neanche scaldato per entrare in campo? Ferrari aveva un problema al polpaccio, quindi non è proprio potuto entrare, ha provato ma non è potuto entrare. Quando ha avuto questo problema? Durante la rifinitura ieri. Ok, quindi diciamo un problema dell'ultima ora, secondo SES 22 Medici, a disposizione per il match di mercoledì? Speriamo, speriamo che lo sia anche lui, ma se Cernicovi fa due gol a partita va bene. Do l'auricolare al Presidente Sebastiani, Massimo così ti può ascoltare. Sì, infatti è una grande sofferenza, possiamo che convenire con le dichiarazioni rilasciate testate dalla Presidente Sebastiani, soprattutto sì, io sono d'accordo anche sul fatto che questa squadra tocca troppo il pallone, non c'è scarico, attacco alla profondità, ma soprattutto c'è poco movimento senza palla, un po' questo. Ma diciamo che è una cosa che si è ripetuta nell'arco dell'intero campionato. Sono d'accordo Massimo, io non mi devo nascondere dietro a niente, purtroppo questa squadra gioca così dall'inizio e sicuramente se siamo arrivati qua siamo arrivati qua perché abbiamo delle grandi qualità, quindi qualcuno alla fine si inventa qualcosa, ma obiettivamente mi piacerebbe vedere una squadra diversa, una squadra che corre anche senza palla, che fa i movimenti e che con tre passaggi magari può arrivare in porta. Oggi l'abbiamo fatto in un paio di occasioni e ci siamo arrivati in porta, però lo dobbiamo fare più spesso, molte volte tratteniamo la palla molto di più di quello che serve quando magari il compagno ha già fatto il movimento. Queste quattro partite stanno dicendo che Auteri aveva meno colpe di quelle che si potevano pensare? Le colpe di Auteri gliele avevate sempre date voi, io non gli ho mai dato nessuna colpa, io ho solamente detto che così come non mi piaceva, sto dicendo adesso la stessa cosa, io credo di essere da questo punto di vista molto onesto, quindi così come dicevo quando c'era Auteri, lo dico adesso che c'è Luciano, bisogna fare qualcosa in più. Ancora studio? No, anche se, insomma mi viene da dire, invertire il trend di una squadra in sole quattro partite mi pare complicato. Non è facile. Non è facile, infatti per quello dicevo abbiamo purtroppo buttato all'aria la possibilità di entrare un po' più in ritardo per lavorare un po' di più, però giochiamo quindi dobbiamo provarlo a fare nelle partite. Chiedo l'ultima, Presidente, se c'è stato qualche sviluppo rispetto alla scorsa settimana, lei alla domenica sportiva aveva detto continuo a lavorare perché se c'è una cosa sicura è che devo andare via, c'è stato qualche sviluppo in questa settimana? No, no, sviluppi ce ne saranno a breve perché lo sapete quello che penso, quindi non è che se ogni volta mi fai la stessa domanda ti rispondo sempre la stessa maniera. Appena ci sarà nero su bianco sarò il primo a fare una bella conferenza stampa, anche perché obiettivamente vedere oggi una partita di playoff dove devo dire, nonostante i cori contro, che ripeto, tanto lo sanno anche loro che non è che mi toccano più di tanto, ma l'unico aspetto positivo è la curva che comunque incita i ragazzi fino alla fine, perché vedere una città che risponde così a una squadra che sta facendo i playoff vuol dire che questo siamo. A proposito, qualche polemica sul costo dei biglietti che c'è stata in settimana, che cosa è successo anche per la differenza dei prezzi sui vari canali di vendita? C'è stato un errore, mi sembra, di viva ticket che poi è stato prontamente risolto, quindi i biglietti, queste sono organizzazioni lega, quindi si stabiliscono i prezzi, credo che durante l'anno abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei confronti dei nostri tifosi, adesso saranno 3-4 partite, bisogna avere un po' di pazienza.